In una domenica funestata dalla tragedia di Carmelo Neri, parlare di sport risulta complicato. Per la cronaca, Francesco Bennice è il vincitore della terza edizione della Maratonina Blu Ionio, la corsa podistica organizzata dall'Associazione Podistica Ionia Giarre con il patrocinio della FIDA, la Federazione Italiana di Atletica Leggera dei Comuni di Riposto, Maschili e Fiume Freddo di Sicilia, nonché della provincia regionale di Catania e dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana. L'atleta della Universitas Palerma arriva primo al traguardo di Piazza del Commercio a Riposto con il tempo di un'ora 10 minuti e 15 secondi, circa due secondi di differenza rispetto al secondo classificato Giovanni Cavallo, tesserato della podistica Messina, trionfatore della passata stagione e che quest'anno ha percorso il circuito in un'ora 12 minuti e 40 secondi. Terzo Mohamed Idrissi, portabandiera della polisportiva Menfi con il tempo di un'ora 13 minuti e 13 secondi, pronostici rispettati anche in campo femminile con l'affermazione di Tatiana Betta della podistica Messina con il tempo di un'ora 24 minuti e 18 secondi.